Lo stop al cova di Vigiano deciso dalla regione Basilicata stamane a Eni ha dato avvio alle procedure per il fermo dell'impianto. Il petrolio fuoriuscito dal centro olio di Vigiano sta migrando all'esterno della zona industriale della Valdagri. Il sindaco di Grumento Nova emette apposita ordinanza per tutelare salute pubblica e ambiente. L'apertura di un tavolo nazionale sulla questione petrolio e la proposta avanzata oggi nel corso di una conferenza stampa dagli esponenti lucani di Alternativa Popolare. Linea dura contro i caporali con l'approssimarsi della campagna del pomodoro e intensificate le attività di contrasto nelle aree del Bradano e del Metapontino. L'USB chiede maggiore attenzione per il Vulture Alto Bradano. Il ricercatore lucano che ha scoperto il meccanismo all'origine dell'Alzheimer ha ricevuto stamane in regione il professor D'Amelio e originario di Montemilione. Come ogni martedì al termine del Tg torna l'appuntamento con la nuova salute. Oggi il dottor Fonte ci parlerà di anoressia e disturbi alimentari. Ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv in apertura nel nostro Tg. Torniamo a parlare dello stop al cova di Vigiano deciso dalla regione Basilicata alla vigilia di Pasqua. Eni ha dato avvio stamane alle procedure per il fermo dell'impianto. Durante la chiusura la multinazionale proseguirà con le verifiche necessarie a rassicurare sulla correttezza ed efficacia del proprio operato. Intanto c'è attesa per quanto riferirà il presidente Marcello Pittella in una conferenza stampa convocata alle 14.30. Facciamo il punto nel servizio di Michelangelo Russo. Dopo lo stop al cova di Vigiano deciso dalla regione Basilicata in mattinata Eni ha annunciato di aver disposto la chiusura temporanea del centro olio e di aver dato avvio alle procedure per il fermo dell'impianto. Tale decisione è stata presa per rispetto delle posizioni espresse dal territorio, dal presidente della regione e dalla giunta regionale. La multinazionale intanto conferma di aver adempiuto a tutte le prescrizioni imposte dagli enti competenti che sono sempre stati tenuti informati sulle attività di intervento e di monitoraggio ambientale in corso. Durante la chiusura Eni proseguirà con le verifiche necessarie a rassicurare gli stakeholder sulla correttezza ed efficacia del proprio operato, l'integrità dell'impianto e la presenza di tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività di esercizio. Sullo sversamento di greggio all'esterno dell'impianto però continua a lavorare anche la magistratura e alla luce degli ultimi sviluppi della vicenda, la procura di potenza sta valutando l'ipotesi del disastro ambientale. Alla sospensione delle attività del COVA si era arrivati al termine di una riunione straordinaria della giunta Pittella durante la quale era emersa la gravità e la vastità della contaminazione provocata dallo sversamento di idrocarburi dai serbatoi del centro olio. La regione accusa Eni di ritardi e inadempienze rispetto alle prescrizioni imposte sul fronte dell'utilizzo dei serbatoi senza doppio fondo e sul piano di caratterizzazione per la bonifica. Il governatore Lucano aveva prontamente comunicato la decisione della giunta regionale ai ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico Gianluca Galletti e Carlo Calenda. Alla vigilia di Pasqua il sopralluogo di un tecnico della provincia di Potenza accompagnato dai comandanti dei vigili urbani di Vigiano e Grumentonova ha quindi consentito di appurare la presenza di acque contaminate da idrocarburi in un'area di drenaggio posta sul limite della fondo valle dell'Agri a circa 500 metri dal torrente Fosso del Lupo, un corso che confluisce nel fiume Agri a sua volta principale in missario del lago del Pertusillo. Per scongiurare il rischio di una contaminazione dell'invaso sempre sabato mattina era stato così convocato in regione un vertice d'urgenza. E restiamo in tema considerate le prescrizioni fatte a Leni e visti i ritardi nell'ottemperare a quanto richiesto dalla regione Basilicata. La fondazione regionale ambientale per quanto di sua competenza promuoverà nelle prossime ore un tavolo tra tutti gli enti preposti e tenuti a garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini rispetto alle attività estrattive in Valdagri. Questo è quanto si legge in un comunicato stampa diffuso poco fa. Il petrolio fuoriuscito al centro olio di Vigiano sta migrando all'esterno della zona industriale della Valdagri e dopo la scoperta di un terreno contaminato il sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice ha emesso apposita ordinanza per tutelare salute pubblica e ambiente. Sentiamo i dettagli da Daniele Corbo. Divieto d'uso del suolo agricolo per pascolo, coltivazione, raccolta di fieno, frutti e ortaggi e divieto d'uso d'acqua per irrigazione o a qualsiasi altro scopo. Lo ha deciso il sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice dopo gli accertamenti sulla presenza di idrocarburi nelle acque di scolo della rete drenante dell'area industriale della Valdagri. L'ordinanza riguarda un terreno ubicato in contrada Campestrini in cui l'ARPAB ha riscontrato la presenza di idrocarburi leggeri e pesanti e la causa è la fuoriuscita di greggio al centro olio di Vigiano. Le indagini ambientali lo hanno già accertato, sottolinea il primo cittadino nel documento, che prevede sia l'enia di impermeabilizzare il punto di arrivo dei liquidi di scolo e ad adottare adeguati sistemi di pompaggio dell'acqua proveniente dal dreno dell'intera area industriale a monte della statale 598. L'obiettivo è quello di scongiurare lo sversamento delle acque contaminate nel canale a valle della strada e successivamente nel fiume Agri. Il provvedimento è stato adottato in via cautelativa, alla luce, si legge nel testo, di un imminente verosimile pericolo per la salute pubblica e l'ambiente. L'apertura di un tavolo nazionale sulla questione petrolio è la proposta avanzata oggi nel corso di una conferenza stampa dagli esponenti lucani di Alternativa Popolare, un percorso già condiviso con il sottosegretario Almisi Antonio Gentile, con delega alle risorse energetiche che venerdì sarà in visita a Vigiano. Sentiamo Mariolina Notargiacomo. Alternativa Popolare scende al fianco del governo locale nella Cherel Coneni, un supporto concreto che farà leva sulla rappresentanza in seno all'esecutivo nazionale del partito di Alfano. Venerdì prossimo, infatti, il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Antonio Gentile, con delega alle risorse energetiche, sarà a Vigiano per far sentire da subito il sossegno del governo centrale alla regione. Petrolio e ambiente è un binomio possibile. Il titolo del convegno che si terrà al centro sociale marone del centro Valdagrino, si tratta dell'avvio di un percorso che gli alfaniani lucani intendono avviare e che punta all'istituzione di un tavolo nazionale sulla questione petrolio. La proposta è stata avanzata nel corso di una conferenza stampa, alla quale erano presenti il capogruppo di Alternativa Popolare in Consiglio regionale, Pace, il consigliere provinciale Picerno e il coordinatore di Alternativa Popolare, Taddei. La nostra attività è sollecitare l'intera rappresentanza di Alternativa Popolare nel governo nazionale a seguito del provvedimento che noi condividiamo della Giunta regionale. La Giunta regionale diffida per tre volteni, evidentemente ha rilevato dei dati che compromettono la salute e quindi quei dati vanno immagazzinati all'interno del dibattito del grande tema del petrolio. Abbiamo convocato per il 21 il sottosegretario Gentile perché è una delega specifica, ma tutta la compagine di Alternativa Popolare all'interno del governo nazionale è attivata per fare cosa? Per mettere in piedi un tavolo che deve tornare a discutere in maniera forte di questa grande risorsa che la Basilicata offre al sistema paese. Un lavoro quello svolto da questo tavolo nazionale di neocostituzione che potrebbe essere supportato da quello di un'agenzia nazionale per la sicurezza delle attività estrattive, come già previsto nella proposta di legge presentata in passato dallo stesso Taddei. Noi il 21 vogliamo riproporre, volevamo e vogliamo riproporre l'istituzione di un'agenzia per la sicurezza sugli impianti petroliferi nella nostra regione, la competenza è nazionale, ne discuteremo con il sottosegretario Gentile, vogliamo che si riprenda con forza tutto quello che nel passato già si è stato concretizzato e realizzato in termini legislativi. L'articolo 16, il memorandum, c'è risorse aggiuntive per lo sviluppo di questa nostra regione. Il petrolio si deve estrarre in questa nostra regione a condizione che logicamente venga preservato con determinazione e con puntualità attraverso tutta una serie di soggetti la salute dei cittadini e l'ambiente. Quindi la regione con l'ARPA, il governo nazionale con questa agenzia per la sicurezza degli impianti perché da qui a 30 anni, quando il petrolio non ci sarà più, rimane il territorio con le altre attività che debbano continuare e debbano essere l'occasione di ulteriori sviluppi per la nostra comunità regionale. Giampiero Maruggi lascia sviluppo Basilicata. La conferenza stampa che si sarebbe dovuta tenere stamane annullata a causa degli impegni del Presidente Pittella mi avrebbe dato l'opportunità di presentare i risultati raggiunti da sviluppo Basilicata nei circa 20 mesi in cui ho avuto l'onore di ricoprirne la carica di un amministratore unico nonché i cantieri aperti dei progetti in corso. Questo quanto si legge in un comunicato stampa. Lascia una società, prosegue Maruggi, con migliori prospettive rispetto a quando ne ho assunto la responsabilità ricapitalizzata con una gestione economica nuovamente positiva ma ancora più con una chiara missione da compiere nel contesto delle politiche regionali. I motivi che mi hanno indotto a questa decisione, spiega Maruggi, sono esclusivamente professionali. Arriva il via libera dalla seconda commissione consigliare permanente al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 del Consiglio regionale. Il provvedimento è stato licenziato a maggioranza. Complessivamente la manovra sul bilancio consigliare ammonta per il 2017 a circa 24.368.000 euro approvati anche documenti contabili dell'Ater di Matera. Bilancio di previsione 2017, autorizzazione allo scomputo di crediti inesigibili e programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Global Service, società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore. Immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni via della tecnica 24 85 100 potenza 0971 19 40 572 info chiocciola global service sociale punto it segnala ingiustizie, discrevische ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella nuova TG. Contatto diretto con la nuova TV, manda foto e video al nostro numero Whatsapp 346 83 53 824 E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG intensificate. Nelle ultime settimane le attività di contrasto al caporalato da parte degli organi ispettivi a margine di un incontro in prefettura. Inoltre sono stati definiti tempi e modalità delle misure di accoglienza e dei relativi servizi da assicurare. Dal prossimo primo maggio sarà possibile utilizzare l'iscrizione alle liste di prenotazione in particolare presso i centri dell'impiego di lavello e policoro con i sistemi tradizionali via web. Lavoratori e datori di lavoro potranno utilizzare servizi già sperimentati negli scorsi anni. In tutto il 2016 nell'area Alto Bradano sono stati assunti 1.371 lavoratori extracomunitari, 1.121 nell'agroalimentare, mentre sono stati 7.000 nel comparto agricolo del Metapontino in aggiunta agli 8.000 lavoratori comunitari. E' quanto fa sapere Pietro Simonetti del coordinamento politico e migranti della regione Basilicata. Stamana intanto, in una conferenza stampa, l'Unione Sindacale di base ha chiesto maggiore attenzione per l'area del Vulture Alto Bradano in vista della campagna del pomodoro. Sull'argomento torneremo nel dettaglio nell'edizione delle 19 del nostro Tg. Da domani scatterà in Italia l'obbligo di indicare sull'etichetta del latte dei prodotti realizzati dalla sua lavorazione la provenienza della materia prima. Sono 135 le aziende lattero caseare della Basilicata interessate. Lo ha reso noto la Confederazione Italiana Agricoltori, secondo la quale con l'obbligo dell'etichetta si supera però solo uno degli elementi di fragilità della filiera segnata da forti, criticità di cui la più forte è sicuramente la remunerazione. Il ricercatore Lucano che ha scoperto il meccanismo all'origine dell'Alzheimer è stato ricevuto stamane in regione. Si tratta del professor D'Amelio, originario di Montemilone. Il servizio è di Fabiana Sant'Angelo. Una scoperta italiana condotta da ricercatore Lucano, Marcello D'Amelio, potrebbe aprire la strada alla comprensione del meccanismo che origina il morbo di Alzheimer, la terribile malattia neurodegenerativa che oggi affligge circa mezzo milione di italiani over 60. Lo studio è stato da poco pubblicato sul Nature Communication. Ad originare la malattia sarebbe la morte della parte di cervello che produce la dopamina, un neurotrasmettitore fondamentale per alcuni meccanismi di comunicazione tra i neuroni. Insomma, la ricerca, se ben sostenuta, può dare risultati. Questo studio, per la prima volta, ha caratterizzato un'area profonda del cervello, che è l'area tegmentale ventrale, la cui degenerazione avviene in una fase molto molto precoce di malattia. Dunque, la compromissione di quest'area determina un mancato rilascio di questa sostanza, che è la dopamina, nelle aree, in diverse aree del cervello, tra cui l'ippocampo e le aree della gratificazione, che nel compresso prendono il nome di sistema limbico. Quindi un ridotto rilascio di dopamina in queste aree del sistema nervoso centrale dà l'avvio di un progressivo declino cognitivo. Qual è la ricaduta di questo tipo di studio nell'ambito della patologia? Le ricadute sono essenzialmente di tre tipi, quindi sia dal punto di vista diagnostico, dal punto di vista terapeutico e dal punto di vista della prevenzione. Le primarie del Partito Democratico, il candidato alla segreteria nazionale del PD Andrea Orlando, domenica 23 aprile, sarà in Basilicata per partecipare ad alcune iniziative politiche, tra cui quella più rilevante, a Valenza nazionale, si svolgerà a Matera, a renderlo noto il coordinamento regionale della Basilicata Mozione Orlando. Per la seconda giornata nazionale della salute della donna, fissata al 22 aprile, San Carlo rinnova l'appuntamento con San Carlo in Rosa, un pacchetto di visite gratuite assicurate dagli ambulatori di osteoporosi, reumatologia, oncologia e senologia. Le visite in programma da oggi fino al 21 aprile sono limitate. Il numero per prenotare è lo 0971 61 44 44. Partecipano all'iniziativa anche il CROB di Rio Nero e l'ASP sui rispettivi siti. È possibile scaricare il calendario delle visite. I dipendenti dell'Aias di Melfi senza stipendio anche questo mese alla vigilia delle feste pasquali i dipendenti sono stati lasciati senza retribuzione. Quanto lamentano in una nota i segretari di CISL Funzione Pubblica e Will Funzione Pubblica, Pasquale Locantore e Antonio Guglielmi, che nello stigmatizzare quanto sta accadendo chiedono all'Aias di Melfi di provvedere con urgenza al pagamento delle retribuzioni e alla regione di intervenire affinché si ponga fine a questo atteggiamento di insensibilità e scarso rispetto. Un'ultima notizia in chiusura. Boom di presenze a Matera nel ponte di Pasqua dove le strutture ricettive hanno fatto registrare il tutto esaurito in aumento il numero di turisti stranieri ma anche italiani. In tanti hanno scelto di trascorrere qualche giorno nella città dei Sassi ma un buon numero di presenze viene riscontrato sulle Dolomiti, in particolare a Castelmezzano e Petra Pertosa nonostante i problemi relativi alla frana sulla ex strada provinciale 13 dei giorni scorsi. Numeri incoraggianti anche sulla costa ionica e tirrenica. Bene le cascate di San Fele e nel Vulture a Monticchio, località presa d'assalto in questo periodo di festa, da segnalare la protesta promossa da un operatore del posto che per sensibilizzare sull'abbandono e il degrado che regna nella zona ha deciso di non aprire la propria attività commerciale a fissi cartelloni di protesta con la speranza che ciò possa essere da stimolo sia per gli enti ma anche e soprattutto per gli altri operatori. Intanto proprio ieri a Monticchio era aperto il Museo di Storia Naturale del Vulture e da mercoledì sarà fruibile tutti i giorni. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. tempo un po' più incerto del previsto, le condizioni meteorologiche si sono rimesse al bello grazie ad una temporanea rimonta dell'alta pressione. Da nord però è già in arrivo una nuova perturbazione preceduta da venti sud-occidentali che già oggi porteranno i primi fenomeni sulle zone tirreniche. Sulla nostra regione avremo cielo parzialmente nuvoloso con deboli precipitazioni sulle zone prospicenti la costa tirrenica e cielo generalmente sereno, poco nuvoloso sul resto del territorio con tendenza ad aumento della nuvolosità sul Potentino con qualche fenomeno dalla sera. In nottata comincerà ad affluire aria più fredda. Le temperature saranno in generale aumento nei valori massimi, con punte di oltre 20 gradi in alcune zone del Materano. Le minime rimarranno stazionare su valori normali. Potenza 5-16 gradi, Matera 9-20 gradi. I venti ruoteranno a sud-ov e su tutto il territorio, con una componente più meridionale sulle zone orientali e saranno moderati. Il Tirreno sarà mosso, l'Oionio poco mosso. Previsioni per domani. Un flusso di aria fredda investirà in pieno la nostra penisola, portando condizioni prettamente invernali su molte zone del paese. Tornerà la neve a quote basse, specie su Abruzzo e Molise. Sulla Basilicata ci saranno piogge sparse e locali nevicate in montagna, ma il grosso del freddo arriverà giovedì, quando nevicherà anche sotto i mille metri. Grazie. Grazie a tutti.